da lunedì 13 settembre nuovi giochi tanto divertimento e moltissimi vita torna con gerry scotti passa parola sfide appassionanti nuovi concorrenti a caccia di premi da conquistare tra sillabe lettere e parole passa parola il gusto del divertimento con il piacere del gioco in buona compagnia torna da lunedì 13 alle 18 e 40 su canale 5